Un'altra opportunità per il territorio, il distretto delle erbe e dei Monti Dauni, l'innovazione che sposa la tradizione e sviluppa l'agricoltura sociale. A presentare il progetto è stato Gerardo Fascia. Il distretto è innanzitutto un'idea programmatica, una visione dei Monti Dauni che noi proponiamo, ma è anche il titolo di una progettualità che noi abbiamo presentato sulla misura 16.1 e poi verrà presentata sulla misura 16.2 della Regione Puglia. Il nostro è il tentativo di avere una strategia a medio-lungo termine, capire quali sono le vocazionalità del nostro territorio e sopra costruirci un'ipotesi di sviluppo che non sia alternativo alle normali dinamiche agricole, ma che sia integrativo, che possa supportare il territorio a venire incontro a quelle che sono delle problematiche tipo la scarsa redditività nell'ambito del settore agricolo che è in crisi e che vive un momento difficile. L'obiettivo principale è quello di produrre e di coltivare erbe asomatiche e poi metterle sul mercato. L'obiettivo principale è quello di creare una filiera, ma una filiera che vede una strategia condivisa con attori pubblici e privati alla base di questo gruppo di azioni che rientrano in questa visione, in questa programmazione. Il tutto con la fattiva partecipazione di Conf Cooperative Foggia. È un'occasione che è stata data alle cooperative che si occupano di sociale per sviluppare meglio la loro attività rispetto a delle persone che hanno bisogno di avere una terapia anche di tipo, diciamo, che si possa permettere di averlo a livello di contatto con la natura, con tutto quello che può essere l'ambiente che ci circonda e soprattutto con tutto quello che può essere l'agricoltura, che è anche un mondo dove si mette all'aperto le persone che hanno bisogno di questo tipo di terapie. Rispetto a questo si sono messe in campo una serie di azioni a livello nazionale, qui soprattutto a livello locale, affinché l'agricoltura possa essere uno strumento per le cooperative sociali. E tutto questo lo si fa con i diversi tipi di attività. Si passa da quelle che sono le aziende che hanno sistemi di allevamento alle aziende che hanno la possibilità di seguire gli orti alle aziende che stanno mettendo in campo anche attività diverse che sono quelle di seguire le coltivazioni e per tutto quello che può essere anche un aspetto terapeutico del loro ruolo.